allora shadowflame mine primo boss ch85 a questo boss bisogna stare attenti a un paio di cose la prima è che lui spawna dei minion che solitamente aggrano il tank ovvero chi ha in aggro lui quindi se uno ruba l'aggro al tank se la becca lui la mina che è un minion mina barra mina che esplode al contatto con il player poi fa un'altra abilità che è un cerchio bianco a terra che esplode in due fasi esplode il cerchio più vicino e poi quello più largo comunque ora lo illustro man mano che lo faccio ma perchè cazzo lo stunnano quel coso non bisogna stunnare quel mob pista di minchia non bisogna stunnare quel mob non bisogna c'è l'ambilità sbagliata questi dungeon esce tutto da mago ma come cazzo è possibile via